Ciao a tutti ragazzi e ragazze, 79900 è tornato molto in fretta anche stavolta e avevo detto che questo video l'avrei dedicato interamente a completare il mondo 6 per finire almeno la storyline principale di New Super Mario Bros 2 ho sta tosse strana che non capisco che cazzo sia e tra l'altro ragazzi sono, in questo momento che sto giocando le 9.05 sono tipo mattiniero come non si sa cosa e sta cosa non va bene in estate e devastante anche il fatto che devo aspettare altre 2 ore e un quarto per guardare Pokémon perché sapete tutti che su K2 è l'iniziato Pokémon diciamo forse il Powa, infatti sì ma sti meteoriti qua hanno un po' rotto il meteocazzo aspetta ma non serve una beata mazza il Powa spero che dammi qualcosa di 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 utile vieni qua grazie Perché? No Andiamo a morire va Forse dovevo attivare quel coso Invece di volare Voi che ne dite? Non si può iniziare così un livello Quanto cazzo deve venire lungo sto video? Ok Ecco Ah oltre che Ho anche difficoltà a fare il livello Ecco Ma porca Dai Mario Vediamo di calmarci un attimo E fare questo livello Tu mi dà un funghetto vero? Perché? Stupido mi darete Porca vacca Non so neanche io come Aiuto Porca vacca Sì Ma perché sono un idiota? Ma perché? Perché? Potevi mettertelo da un'altra parte quel cazzo di agota Mamma mia Dai no questa Stava andando bene questa Accidenti Ancora Ancora Che culo Che sfiga Che culo Che sfiga Ma no 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 No Io ti faccio arrivare prima da qua Ma va a fa moca sortva sinceramente ora non me ne frega una mazza della moneta vai a cagare c'era lì la fine era lì e continuavamo a morire quattro minuti su questo fottuto livello che poi non è neanche tanto se pensate a super mario però per il video porca vacca è tanto perfetto guarda dove siamo adesso un bel posto di merda vabbè forza e coraggio ragazzi il bello è che questi livelli prima di fare il let's play cioè anche ancora prima di aprire che cazzo è questo cioè prima ancora di aprire il canale così che tra l'altro ragazzi il primo agosto faccio un anno preciso che sono su youtube anche se devo dire che i video li ho iniziati diciamo da settembre quando sono tornato dalle vacanze tutto qui scegliamo questa porta non mi piace bene bene aspetta ma devo andare di là ma questo livello è quello di prima solo che ora i fantasmi sono piccoli non devo andare di qua cosa ok raga sta diventando molto creepy vabbè io seguo le frecce tra l'altro sono anche rosse la cosa non mi come dire non mi rende felice ah ecco ok stava riscendendo il coso vabbè ho una sensazione di déjà vu è epicità al massimo ah ho capito ma porca traia ho capito ho capito cosa bisogna fare questo è praticamente il pezzo di prima solo che i fantasmi piccoli io devo andare qua c'è qualcosa no non c'è niente non sono riuscito a premere il tasto per saltare no ci deve essere un modo per superare questo pezzo per forza non ho neanche raggiunto il checkpoint cioè dammi qualcosa grazie tesoro ma poi sti gombini tipo grazie a tutti ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo sapevo. Cosa vuoi te? Ragazzi ce l'abbiamo fatta in qualche modo 20.000 anni per riuscire a capire. No. Porca vacca. Porca vacca cosa ho fatto? E no dai perché? Perché? Oh oh oh. Non è giusto però questo. Questo non è giusto. Oh e vabbè io seguo la freccia ormai. Ma. Vabbè a cagare io non ho spostato il fantasmino. Oh sì l'avevo spostato da qua. Dunque qua ci siamo arrivati prima. Ok. I livelli li adoro. No a parte gli scherzi. Li adoro seriamente. Perché mi piacciono i trabocchetti. Cioè poi questo livello era fatto in modo che se tu non praticamente se tu non avessi trovato tutte le monete praticamente non passavi cioè. Nel senso l'ha fatto in modo da farteli trovare per forza. Che fastidio. Abbiamo raggiunto quota 49 giga monete. Monete dorate chiamatele come volete. Mi sa che dovrò dividere in due anche la cosa del mondo. Sai perché cacchiarola siamo già. Siamo già un po' in là col tempo. Comunque ragazzi ora vedremo. Cos'è successo? No con calma Mario. Cos'è sto coso? Ah già. Uuuh te la schia. Mamma mia. Questa sento che mi servirà. Ma se io andassi un po' avanti senza quel coso? Questa sento che mi servirà. Ok, va bene, lasciamo stare Stavo dicendo, non so se mi vedete Ma sono Sono sopra Deve in qualche modo far cadere Vaffanculo, ecco, ora non posso più farlo La cosa più bella di sto gioco Non si può più fare Fottiti Su Ecco, una non l'ho presa Vieni qua Vieni da Mario Cosa sono quelli? Porca merda, porca merda, porca merda Ti vuoi alzare, stupida testa, idiota Ci ho ripensato No, quello lo voglio, quello lo voglio Mi serve, mio Alzati Porca vacca Cioè, no, ragazzi E quelle No, maledette, maledette Oh, veramente? Vaffanculo Non volevo una up, io volevo Questo Sennò non sono contento Beh? Ah, grazie Oh, oh Alzati Fuori dai maroni Tutti Via Mi ci gioco qualcosa che Che sono un pirla Però vabbè No, ok Mamma mia Un altro livello completato Ok, ce la stiamo facendo Dai Santa polenta Quanto manca? Uno E l'altro È quello che conosciamo tutti Il nostro Bel castellino Perfetto Let's go Mario Cicci Cicci Wai 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 Scommetto che devo entrare qua Ok Merda di funghi Sì Stavo tentando di fluttuare come Come Mario Cazzo Cioè no, non come Mario Cazzo Come Mario Come Mario Piumato Già Fottiti Ma se tipo Ti sparo Che cacchio ho fatto La prima checkpoint Che non mi fido No Poi questa Ma dai Eccolo lì Si salta tutto Rischia di perdere Madonna santissima Devo farla in velocità Devo farla in velocità L'ho fatta in velocità Ah praticamente siamo tornati al Porca vacca Praticamente eravamo tornati al primo punto Solo che ora era chiuso E potevi solo andare Eh sì Sono un genio Lo so E anche questa è fatta Porca vacca Ma come ci ha tenuto lì il primo livello Non ci terrà mai niente Mi sa neanche il castello finale ci terrà Quindi Ora devo star mutire Ma Eh Eh Ho star mutito Ok Io Adoro Adoro questi livelli No non è vero Beh in sostanza Indica che dobbiamo spegnere sti cosi Ecco dovevo passare di là Ma lo sapevo io Lo sapevo anche Io lo sapevo che dovevo Eh va a far culo Sapevo io che dovevo passare di là Ma io cosa ho fatto No a me piace passare dall'altra parte No Bene Bene Questa ci servirà Allora Eh ok Entriamo qua che sbucheremo dall'altra parte Porca vacca Si ok ma non mi dovete abbrustolire il culo però Ecco Porca vacca Che culo Tutti i sensi Me l'hanno abbrustolito ben bene No 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 Dovuto Scusate Dovere 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 Sono un idiota Patentato Si lo so Non l'ho neanche presa Vaffanculo Mamma mia Fammi scendere Fammi scendere Porca troia Che culo Fammi uscire da qua Oh grazie Merda Merda Cos'è quel coso Via Vattene Cosa cacchio è Ok Qua c'è tutto un gioco di ci vuole culo Non chiede se riprende adesso Non mi puoi abbrustolire il cappellino così però va 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 fa culo Porca vacca Ciao pirla Entriamo assieme Scusate l'attimo di silenzio ma Ero veramente Cioè ero in una fase rem di Ron Grang Peng Insomma Ero messo veramente male No non puoi Non puoi però Io così come faccio Muori Sì Sì Oddio ce l'abbiamo fatta Abbiamo superato questo pezzo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta L'accontentagine L'accontentagine Oh mio dio Oggi è giovedì Quindi ragazzi domani E' stare oggi Bene Allora ragazzi No io La La chiudo qua Veramente Magari Adesso vedrò se fare un altro episodio Direttamente oggi Se farlo domani E fare anche stare oggi Ma penso che lo farò domani Come al solito Se questo video vi è piaciuto Ditelo con un mi piace Un commento positivo Condividendolo dove volete Vi spiego Non faccio un altro video Perché a caricare questo Ci vorrà un'eternità Perché dura Più di 20 minuti Quindi il mio computer Essendo stupido E' stupido Quindi ripeto Se vi è piaciuto Lasciate un commento Positivo Mi piace Anche la pagina di facebook Che vi metto in descrizione Come in ogni video E vabbè Se non siete ancora iscritti Al mio canale Iscrivetevi E come al solito Spero vogliate partecipare Alla Little Cup Da settembre del mire È tutto Ciao ragazzi